Sono Franco Arcovito e siede sul mio programma 360 gradi. Oggi ho il grandissimo piacere di ospitare nel mio programma un giornalista professionista, anche una persona piuttosto rilevante per l'informazione delle isole eolie. Si chiama Bartolino Leone. Siccome presentarlo per me è una mission impossible, chiedo a Bartolino di dire solo quattro parole per quelli che non hanno una cognizione precisa di chi sia. Buongiorno intanto, dalle eolie è il piacere ovviamente e anche io per questo tuo interessamento. Sì, sono un giornalista professionista che naviga ormai da molti anni nell'ambito del giornalismo. Sono direttore di notiziario eolie.it, un giornale seguitissimo in tutto il mondo perché ogni giorno abbiamo contatti con oltre 100 paesi laddove ci sono gli amanti delle isole che sono tantissimi. Sono anche il corrispondente del giornale di Sicilia e dell'Agenzia ANSA. Ho avuto tantissime collaborazioni, ho pubblicato libri, organizzo anche manifestazioni nel periodo estivo. Ci diamo da fare in questo mare delle eolie. Bene, tu sai, perché ce lo siamo detto qualche volta, che anch'io sono un grandissimo amante delle isole eolie, anche se non risiedo lì. Vorrei sapere da te, proprio molto sinteticamente, qual è la situazione oggi delle isole eolie, in questo momento? La situazione purtroppo non è bella. Anche le olie avvertono questo momento di difficoltà che deriva sulle principali questioni a partire dalla sanità. Abbiamo un ospedale che è definito agonizzante perché non ci sono medici, non ci sono infermieri a pieno organico e quindi per ogni patologia, anche delle meno gravi, c'è un via vai di elisocorso verso la terraferma. Diciamo che oggi il nostro vero ospedale è il Papardo, perché per ogni cosa l'elisocorso trasferisce gli isolani al Papardo, che fra l'altro è diretto da un liparoto, il dottor Mario Paino. C'è poi il problema dei trasporti, c'è il problema della portualità. Insomma, non siamo messi bene, abbiamo perso tantissime occasioni. Le olie per me sono tra i posti più belli del mondo. Io ho avuto la fortuna fino ad oggi, fino a quando non era esplosa la pandemia, di girare il mondo e ho visto una cinquantina di paesi, tra i posti anche molto belli, come potrai immaginare. Però posso dire che le nostre isole, le nostre sette isole non hanno nulla da invidiare a nessuno. Io dico sempre però che il nostro tesoro si perde ancora oggi in fondo al mare. Mi chiedo, è possibile che abbiamo le terme di San Calogero che risalgono ai tempi dei Romani e ancora oggi, da cinquant'anni, sono chiuse? Nonostante Musumeci abbia investito molto con questo suo governo, sia per Ascireale che per Sciacca. Le olie tagliate fuori, come se politicamente non contano. Questo ovviamente è solo un episodio, ma posso parlare anche del parco geominerario del Museo della Pomice, che invece in nove mesi Musumeci vuole realizzare. Sull'ospedale non c'è interessamento, sulle terme non c'è interessamento, in nove mesi invece ha stanziato anche 4 milioni e mezzo per rilevare l'ex cava della Pomice. Bartolino, la situazione della scuola, la scuola alle isole olie? La scuola a Lipari, che è l'isola madre delle olie, in un certo qual modo funziona bene. Abbiamo l'istituto che richiama oltre 500 studenti, il liceo scientifico, gestiti molto bene, anche se c'è sempre la precarietà dell'edilizia scolastica. La stessa cosa si può dire per le altre scuole. La media, ben diretta da Renato Candi, all'elementare ben diretta da Mirella Fanti, così come anche l'istituto ben portato avanti dalla professoressa Tommasa Basile. Il disastro si può dire riguarda le isole minori, che ovviamente sono quelle che soffrono di più, perché d'inverno per il mare che è quasi sempre mosso, proprio per quello che dicevo prima, per le carenze portuali i mezzi non possono attraccare e quindi i docenti che arrivano da fuori spesso non ci sono. A parte il fatto però, devo sottolineare, che le isole minori d'inverno si svuotano perché la maggior parte degli isolani si trasferiscono a Milazzo, dove ormai hanno casa, per far studiare i loro figli. Considera che a Filicudi la scuola, fino alla media, esiste grazie agli extracomunitari. Cambiamo il discorso. Ho visto su un giornale un accorato appello di Sergio Lacava da Vulcano che chiedeva che si facesse un po' chiarezza su questa faccenda della temperatura dei gas di Vulcano. Com'è realmente la situazione? Sì, diciamo che per quanto riguarda Vulcano la situazione rispetto al dopo estate 2021 è notevolmente migliorata, tanto che ormai si può dire zone rosse non ce ne sono più. L'armatore Sergio Lacava, nonché operatore turistico, ha voluto mettere in luce tutti gli impegni che erano stati presi anche da Musumeci, che ricorderai sbarcò a Vulcano insieme al vertice della protezione civile per promettere mare e monti, ma fino ad oggi, come ha sottolineato Sergio Lacava, non si è visto nulla, non si sono visti neanche i ristori. Chiaramente l'isola, questa è la preoccupazione degli operatori turistici, sta pagando anche un costo a livello turistico, perché per esempio per Pasqua ok che le condizioni meteo non erano favorevoli, ma si sono visti pochi turisti, qualcosa in più si è vista per il ponte il 25 aprile e primo maggio e ora c'è qualche preoccupazione per l'estate, mentre invece nelle altre isole si può parlare già di un primo boom turistico, anche a Stromboli laddove per esempio c'è ancora un problema del cratere, perché la scalata è permessa fino a 400 metri d'altezza, succede però che alcuni escursionisti si avventurano oltre e come avrai letto un turista di Napoli e un altro israeliano hanno rischiato la vita perché sono finiti in un burrone, sono stati recuperati e issati con un bericello dall'elicottero. Quindi anche a Vulcano per esempio si richiede già di riaprire il vulcano perché molti turisti si avventurano senza guide al seguito e chiaramente la situazione ancora nella parte alta del cratere è a rischio con il gas e quindi insomma c'è da prestare molta ma molta attenzione. Bartolino io pochi giorni fa ho avuto una conversazione col vescovo ausiliare Monsignor Cesare Di Pietro che era venuto a Lipari proprio per ottemperare al suo mandato di vescovo ausiliare anche delle isole orie di Lipari. Cosa pensi che si dovrebbe fare da parte nostra, diciamo da parte di quelli che non sono lì alle isole ma che si rendono conto della situazione? Cosa potremmo fare noi per questo arcipelago? Noi come villeggianti? Come persone che magari hanno un minimo di possibilità di incidere nell'informazione? Noi che facciamo informazione? In qualche modo, direi Più di quello che facciamo spingiamo a più non posso, sollecitiamo Tu considera che come ti dicevo all'inizio io a livello giornalistico ho fatto di tutto e di più in questi lunghi anni che non li voglio rievocare perché veramente ormai ne sono passati tanti Ho tutte le esperienze, ho creato a Lipari la prima Radio Libera, poi abbiamo fatto anche la TV, giornali locali tipo Notiziario delle Oli, Cartaccio e poi anche l'Arcipelago Insomma tantissime esperienze anche a livello di quotidiano, di collaborazioni varie prima con l'Agenzia Italia e poi con l'ANSA Però ti voglio dire, io le maggiori soddisfazioni me le sono prese me le sto prendendo con il notiziario che esiste da 15 anni ed è praticamente un riconoscimento alla libertà perché essendo io il direttore, non avendo padrini politici sono libero e sono diventati anche liberi i miei lettori perché uno dei successi del notiziario è che io faccio diventare tutti opinionisti noi abbiamo opinionisti da ogni parte del mondo da Melbourne, da Sydney, dalla Germania, dalla Francia cioè scrivono tutti e anche nelle isole cioè se mi devono segnalare un problema idrico per esempio a Panarea scrive un abitante cioè ho portato avanti questi messaggi e i risultati ci sono perché è un giornale seguitissimo da Filicudi ci sono gli abitanti che raccontano tutti i problemi che ci sono nell'isola idem a Genostra idem a Panarea a Salina, a Vulcano insomma è la soddisfazione come si suol dire Facciamo una nota di colore tu ti chiami Bartolo, Bartolino che cosa rappresenta San Bartolo per le isole Olie? San Bartolo? La famosa festa di San Bartolo San Bartolo caro ingegnere è la salvezza dell'arcipelago delle Olie e soprattutto degli Oliani perché grazie a San Bartolo queste isole continuano a sopravvivere e per fortuna io direi grazie al nostro protettore che ci protegge a più non posso e d'altronde c'è una devozione che qui nelle isole è davvero impressionante per due anni per via della pandemia non si è potuta fare la processione ora speriamo che nel prossimo 24 agosto quando si festeggia questa grandissima festa San Bartolo potrà continuare a circolare nelle vie di Lipari però ti voglio dire San Bartolo davvero sta proteggendo queste sette perle del Mediterraneo e io sono onorato che i miei genitori al terzo figlio hanno messo questo nome Evidentemente hanno resistito però al terzo figlio terzo figlio un'ultima notazione si legge che ci sia una corsa alle vendite di case, ville e hotel addirittura alle isole Olie che cosa hai da dirci in merito? Sì c'è stato, io ho fatto il lancio di questa notizia oltre che sul notiziario sul Gia Sicilia e sul Lanza ci sono diversi alberghi anche importanti che sono in vendita e quindi sta a dimostrare anche la difficoltà di poter mantenere queste strutture di un certo livello che sono esplose grazie ai finanziamenti del patto territoriale che ci sono stati contributi del 60% che gli operatori hanno potuto ottenere e quindi c'è stato questo boom di realizzazioni di questi hotel si va avanti con parecchie difficoltà perché i costi sono notevoli ora si è aggiunto anche il caro Bollette per cui puoi immaginare il problema delle Olie che si sta evidenziando comunque è che qui ci sono due stagioni c'è la stagione invernale come dicevo prima che le isole si chiudono cioè quasi tutti gli abitanti vanno via ne restano pochi e questo fenomeno purtroppo da qualche anno si sta verificando anche a Lipari dove nel periodo invernale quasi tutti gli esercizi sono chiusi c'è difficoltà anche per esempio nelle isole minori a trovare aperto un albergo a trovare aperto un bar a trovare aperto un ristorante a Filigude avrei letto 11 tedeschi non sapevano dove andare in bagno per Pasqua perché tutti i locali erano chiusi e sono stati ospitati gentilmente da due famiglie del posto quindi insomma ci sono difficoltà a mantenere avanti queste strutture anche se devo dire anche per quest'anno le premesse per quanto riguarda la stagione turistica sono molto favorevoli cioè i ponti precedenti sono stati molto ma molto positivi anche oggi c'è una bella nave da crociera la Royal Clipper con oltre 200 turisti che sono sbarcati sull'isola già mi pare che è la terza o la quarta nave da crociera che arriva alle oli certo stamattina sono anche arrivati i carabinieri da Milazzo al comando del capitano Andrea Ortolani e c'è in corso un'indagine per quanto riguarda il famoso muraglione che si sta realizzando nel lungomare di Canneto quindi da questa indagine ora dovremmo vedere cosa verrà fuori Bartolino Leone è una fonte inesauribile di notizie per le isole olie io vorrei chiedere a Bartolino Leone in considerazione del fatto che ci saranno delle elezioni amministrative per il sindaco delle isole olie e così via che tipo di appello vorrebbe fare? Sì siamo già in piena campagna elettorale come sai a Lipari ci sono ben cinque candidati alla poltrona di primo cittadino per il palazzo di piazza Mazzini qua l'auspicio è che praticamente si faccia fare un salto di qualità a queste isole secondo me qui ci sono le premesse per fare turismo tutto l'anno abbiamo delle condizioni climatiche che sono favorevoli per cui tranquillamente i tedeschi, svedesi, norvegesi coloro che potrebbero venire anche fuori stagione in vacanza a Leone sicuramente potrebbero fare il bagno a mare io per esempio sono uno di quelli che fa il bagno con mia moglie a mare tutto l'anno, anche a Capodanno, anche a Natale sfidiamo qualche volta anche le intemperie per cui sono sette isole che secondo me non sono sfruttate al 100% abbiamo tutte le peculiarità dalle bellezze naturali, dal mare ancora pulito dal castello, dal museo tra i più importanti del mondo basterebbe rimettere in funzione per esempio le terme di San Calogero come ti dicevo prima che potrebbero garantire una presenza anche fuori stagione bisognerà riaprire, tu conosci bene la vicenda del laghetto termale di Vulcano che è una grandissima attrazione per migliaia di turisti provenienti dal mondo ma è possibile che da tre anni è ancora chiuso non si può arrivare ad una intesa a prescindere dall'attività giudiziaria che è in corso e che pone ancora oggi sotto sequestro questo laghetto termale ma si potrebbe nel contempo riaprirlo per mettere una gestione per esempio anche comunale o di affidarla ad una cooperativa e intanto far utilizzare questi fanghi a prescindere però sempre dal fatto se c'è nei paraggi un pericolo di gas questo è tutto ovviamente da verificare Bertolino Leone, adesso io ti saluto perché non voglio rendere troppo pesante questa nostra chiacchierata ti ringrazio infinitamente e ti assicuro che ci vediamo molto presto a Libari probabilmente perché tu sei lì piazzato vedremo di fare qualcosa insieme per dare un piccolo impulso a questo arcipelago che è nel nostro cuore e che poi è forse uno dei posti più belli del mondo ti ringrazio, un abbraccio e ci rivediamo presto grazie anche a te per questo intervento e un caro saluto a tutti i tuoi ascoltatori a tutti coloro che ti seguono dal sole sempre libero come dico io delle olie arrivederci a presto, un abbraccio grazie ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi naturalmente